Ben ritrovati, nuovo appuntamento con la storia dell'arte, nuova puntata di racconto d'arte. Quest'oggi torniamo a parlare di Salvador Dalí, un artista tutto tondo perché è stato un pittore, uno scultore, uno scrittore, un fotografo, un cineasta, addirittura un designer ma anche uno sceneggiatore ma anche un mistico spagnolo. Nacque e morì a Figueres il rispettivamente l'11 maggio del 1904 e il 23 gennaio del 1989. Fu un abile pittore, un pittore virtuosissimo ma anche un bravo disegnatore ed è celebre soprattutto per le immagini suggestive e bizzarre delle sue opere che sono ovviamente surrealiste ma anche dadaiste. Il suo peculiare tocco fu attribuito anche all'influenza che ebbero su di lui i maestri del Rinascimento. Il suo talento artistico trovò espressione, come abbiamo detto poco fa, in differenti ambiti tra cui il cinema, la scultura ma anche la fotografia. E questo lo portò a collaborare con artisti di ogni settore e in ogni suo ruolo lui riusciva a far emergere l'amore per tutto ciò che faceva, a far emergere anche le sue particolari doti. Ovviamente era dotato anche di grandissima immaginazione e spesso però fu al centro delle critiche per i suoi atteggiamenti stravaganti. L'opera che ci avete suggerito di approfondire quest'oggi è tra le sue opere più famose ed è La Persistenza della Memoria. Un dipinto a olio su tela di 24x33 cm appunto realizzato nel 1931 e che attualmente si trova conservato al Museum of Modern Art di New York. È un'opera surrealista per antonomasia e raffigura una landa deserta dominata dalla presenza di alcuni orologi molli, dalla consistenza quasi fluida, liquida e in realtà simboleggiano l'elasticità del tempo. Ma andiamo a comprendere bene quella che è la storia di quest'opera perché da lì realizzò la persistenza della memoria, come abbiamo detto nel 1931, ma in sole due ore e in circostanze particolari. Infatti l'artista era afflitto da un'improvvisa emicrania e non poteva accompagnare la moglie al cinema. Vedendosi costretto a casa, venne ispirato dall'ipermollezza del formaggio che stava consumando, che stava mangiando lì sul tavolo e iniziò da lì, questo formaggio gli suggerì una riflessione di natura filosofica sullo scorrere del tempo. Il dipinto inizialmente infatti venne denominato agli orologi molli, ma nel 1932 fu acquistato dal gallerista Julien Lévy e quest'ultimo lo espose nella propria galleria d'arte a New York assegnandogli un nuovo titolo, cioè la persistenza della memoria. E in realtà questo non fece altro che accrescere quella che era la fama proprio di Dalì. Nel 1934 poi l'opera fu acquistata al prezzo di 350 dollari dal Museum of Modern Art dove si trova esposta tutt'oggi. Sicuramente se andiamo ad analizzare quella che è la descrizione proprio dell'opera ci rendiamo conto che raffigura, come potete vedere bene alle mie spalle, un paesaggio costiero della Costa Brava in Catalogna, nei pressi di Port Ligà e in realtà è un paesaggio dominato anche da un cielo con delle sfumature gialle e celesti allo stesso tempo. La scena si presenta disabitata, scevra di ogni vegetazione, in realtà ci sono solamente alcuni oggetti che la popolano, abbiamo un parallelepipedo color terra, un ulivo senza foglie forse perché ormai è privo di vita e poi abbiamo anche un occhio dalle lunghe ciglia addormentato, un plinto blu sullo sfondo che fa in realtà Pandan con il mare che ha alle spalle, quindi che c'è nella parte retrostante. L'attenzione dell'osservatore però, tuttavia, viene catturata dai tre orologi molli, quasi liquefatti, che in realtà sono i protagonisti della scena. Quindi, quando questi qua sono sotto il sole e si stanno sciogliendo, assumono anche la foggia dei loro sostegni. Cioè, il primo ha una mosca e scivola oltre il bordo e quindi si colloca in primo piano, il secondo è sospeso sull'unico ramo dell'albero secco, il terzo invece è avvolto a spirale su una timida figura embrionale che è in realtà il colore del suolo e un quarto orologio, l'unico ad essere rimasto allo stato solido è, diciamo, poggiato, possiamo dire così, collocato sul parallelepipedo ed è ricoperto da formiche nere. Ecco, lui, e c'è da dire, questa è una particolarità, che l'artista ha sempre nutrito una fobia verso questi insetti sin da quando era bambino. Ecco, quindi lui, per collocarli lì, gli attribuisce un particolare significato che vedremo in seguito. In ogni caso, c'è da dire che se dovessimo interpretare realmente il significato di quest'opera sicuramente mostra degli influssi di Bergson, ma anche di Sigmund Freud. Ecco, lui riflette sulla relatività del tempo. Nell'opera, infatti, come abbiamo detto, ci sono diversi oggetti e diversi oggetti non raffigurati tutti allo stesso modo, ognuno rappresenta un passaggio del tempo diverso. Questo perché? Perché la testimonianza che il tempo non scorre nello stesso modo per gli uomini, per i vegetali, per gli animali. Ecco, quindi, lui vuole anche sottolineare con quest'opera che ognuno ha una propria visione della vita, dei ricordi propri, che ognuno va secondo un ritmo diverso. Ecco, ovviamente noi, umanamente parlando, ovviamente dividiamo il tempo in secondi, minuti e ore, giorni, settimane, mesi, anni. Ecco, in realtà, però, sono tutti dati che quantificano il tempo che passa, ma secondo la sua interpretazione, secondo l'interpretazione di Dalì, non tutto può essere sempre calcolato, non possiamo sempre monitorare il tempo che passa. Ecco, soprattutto le sensazioni, le emozioni, i bisogni, non sono cose che sono realmente quantificabili numericamente con il tempo che passa, ma anche le esperienze. Ecco, in questo modo, quindi, lui riesce a mettere in crisi l'oggettività del tempo. Perché? Perché dice che in realtà, sì, ok, le ore, i minuti, i secondi passano, va bene, passano tutti uguali, possiamo dire così, no, gli attimi per lui, invece, hanno un valore diverso. Quindi, sono, diciamo, non possono essere misurati da un punto di vista numerico. Lui ha quindi voluto rappresentare quella che è una vera e propria preoccupazione. In realtà, a tutti preoccupa il tempo che passa, chi più, chi meno, però in realtà è riuscito proprio a cogliere una preoccupazione che riguarda tutti e a rappresentarla proprio in maniera perfetta. E quindi poi lui vuole fare anche un invito attraverso quest'opera, cioè per vivere appieno il proprio tempo bisogna anche concentrarsi sul presente, non lasciarsi sopraffare dalla paura del tempo che scorre perché sennò poi rischiamo sicuramente di non goderci appieno quello che è il presente, il tempo continuerà a passare e probabilmente poi saremo pieni di rimpianti piuttosto che di ricordi. Siamo giunti al termine di questa puntata, io vi ringrazio per averci seguito. Ovviamente vi ricordo come sempre le nostre pagine social Facebook e Instagram Sicilia24 e Spazio Notizia. Potete scriverci lì, come state già facendo, gli artisti, le opere di cui siete più curiosi e le approfondiremo insieme nel corso delle prossime puntate. Grazie ancora una volta per la vostra attenzione e racconto d'arte. Torna domani! 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 Torna domani!